Per la voce delle associazioni incontriamo il presidente di Federcaccia Brescia, Marco Bruni e cominciamo con lui a commentare, visto che è un po' che non ci sentiamo, Marco, quello che è successo in Regione. Le elezioni sono stati promossi qui a Brescia alla Mazzali, Carlo Bravo, Floriano Massardi, poi anche altri ripescati vicini al mondo della caccia, anche se non sono cacciatori. Sei soddisfatto di com'è andata questa votazione, di questa elezione? Sicuramente sono soddisfatto di come sono andati i consensi, di come sono stati premiati i candidati che hanno fatto della propaganda della difesa del mondo venatorio la loro bandiera. È evidente che il signor Bontempi, il dottor Bontempi che io non conosco, ex sindaco o sindaco di Agnosine, non ricordo, sicuramente non può essere lontano dal nostro mondo, come dicevi tu prima. È un estimatore dell'estero, ha fatto quella famosa rotonda dedicata a... Esatto, quindi è una persona che è sicuro. Però ci sono stati tre consiglieri, anzi ce n'era un quarto che non è stato eletto, che hanno fatto della difesa del mondo venatorio un po' la loro bandiera e sono stati eletti anche con, diciamo così, moltissimi consensi. Quello che dispiace un po' è vedere come la volontà del mondo venatorio e quindi anche dei cittadini bresciani non sia stata poi premiata, diciamo così, nella distribuzione degli incarichi. Quindi la signora Mazzali che è stata premiata con l'assessorato al turismo e non con quello all'agricoltura, di cui sinceramente... Turismo, moda e marketing. Turismo, moda e marketing, cioè sicuramente è una persona che rimarrà vicino al nostro mondo, però avendo preso tot consensi evidenti, mi sembrava corretto che ricevesse questo tipo di incarico, ma evidentemente qualcun altro non la pensava come noi. Mazzali, anche lui, non è stato preso in considerazione per determinati incarichi. La nostra speranza è che possa almeno essere presidente della commissione ottava dell'agricoltura, però ecco, questa cosa qua lascia un po' la mare in bocca perché alcune forze politiche come la Lega hanno raccolto un numero percentuale di consensi più ampio a Brescia rispetto ad altre province, perché a Brescia ha quasi preso il 21%, la Lega quando in altre province è sotto il 20%. Anche Fratelli d'Italia ha fatto un ottimo risultato con due persone che appunto avevano questo tema, loro caro, come principale motivo della campagna elettorale, vedere che non sono stati premiati, questo dà un po' fastidio. Alessandro Beduschi è il nuovo assessore all'agricoltura, quindi a lui tocca la delega alla caccia, immagino che le associazioni vorranno incontrarlo, conoscerlo, sapere come la pensa e come si muoverà. Sicuramente lo incontreremo, non lo conosco, sicuramente lo incontreremo, chiederemo un incontro, però al di là di quelli che sono i propositi, l'importante sono i fatti ormai, e noi abbiamo capito che all'interno degli uffici di Regione Lombardia si annidano i principali nemici del mondo venatorio, e questi uffici ci sono delle persone che troppo spesso affrontano gli argomenti in modo punitivo per il mondo venatorio, e questo non va bene, non va bene perché ogni volta che prendiamo in mano un provvedimento, una delibera, una linea guida, qualsiasi cosa, lo abbiamo visto quando si è steso il piano faunistico e lo studio di incidenza, bene, tutto quello che viene scritto è punitivo, e questo non va bene, ma non va bene perché l'azione degli uffici deve collimare con quelli che sono gli indirizzi della politica, perché qui l'indirizzo della politica e del consenso elettorale mi sembra che sia chiarissimo, quindi non credo che si debba continuare su quello che è stato il modo di lavorare degli scorsi anni, probabilmente dovranno essere portati dei rinforzi in questi uffici, adesso si dovrà individuare il nuovo direttore dell'ufficio, e questo è importantissimo per capire quelle che saranno poi i passi futuri, perché se un assessore mi dice, no io non sono contro la caccia, mio nonno era cacciatore, ho tanti amici cacciatori, vado alle cene dei cacciatori, poi dopo non controlla gli uffici in modo forte, con persone oneste intellettualmente, nessuno chiede favoritismi in questo settore, chiede solo una trasparenza e un controllo. I favoritismi non sono possibili perché esistono poi i tribunali e quindi ogni favoritismo viene punito da sentenze dei tribunali amministrativi, però è evidente che fare una scelta programmatica in un modo o nell'altro è totalmente diverso per quel che riguarda poi il futuro della caccia in Lombardia, quindi noi abbiamo già scritto e lo diremo anche all'assessore che diamo la nostra massima disponibilità al confronto, alla collaborazione a portare quello che è il nostro capitale di competenze, sia tecniche che legali, all'assessorato, però siamo, come posso dire, sempre vigili nell'analizzare nello specifico gli argomenti, perché gli argomenti verranno affrontati nello specifico, dobbiamo fare il piano faunistico, perché siamo a metà, siamo a metà, bisogna finirlo, ci sarà il calendario, c'è la questione dei valichi, c'è la questione degli anellini, c'è la questione delle linee guida dei galliformi alpini e del gallo forcello, ce n'è aiosa di argomenti da affrontare, analizzati nello specifico, poi quello che voglio dire, e poi ti lascio la parola Beppe, che gli argomenti vanno affrontati insieme, perché altrimenti quando le cose vengono fatte, sono fatte e non si può mai più tornare indietro, perché poi il problema è sempre quello, no? No, c'è la vinca, c'è questo, c'è quell'altro, ormai non possiamo tornare indietro, no? Non funziona così, se le costruiamo insieme, troviamo insieme le modalità per fare una caccia sostenibile in Lombardia, che non sia contro le normative europee e italiane, però che non sia punitiva, perché se tutte le volte bisogna trovare un modo per togliere un altro pezzettino di libertà, un altro pezzettino di giustizia, un altro pezzettino di correttezza, li abbiamo visti quanti sono gli animalisti, i 5 stelle sono arrivati al 2% a Brescia, serve ancora qualche cosa per far capire qual è la volontà degli elettori? No, a questo punto bisogna solo attendere le prime mosse dell'assessore e capire cosa ha in mente, cosa ha intenzione di fare e che tipo di dialogo vuol tenere con le associazioni venatorie. Ma sicuramente noi non partiamo, diciamo così... Ma sappiamo che i miracoli non li faranno... Esatto, ma noi non abbiamo nessuna preclusione nei confronti dell'assessore, ripeto, non lo conosco, ci sono poi Massardi, è bravo, in consiglio ci sono e comunque avranno dei contatti, essendo bravo, dello stesso partito, però la questione è che ci vuole il controllo sugli uffici, perché il dramma è che per un assessore all'agricoltura la questione caccia equivale al 2% del carico di lavoro, perché hanno 500 dipendenti all'agricoltura e 7 sono all'ufficio caccia. Fate le debite e proporzioni non si arriva al 2%. E quindi, sai, si trova dei funzionari che gli dicono no, va bene così, no, va bene, va bene, per lui è una rottura di scatole in meno e si va avanti, mentre invece, secondo noi, dialogare con persone... Abbiamo sempre dimostrato di non essere persone che chiedono l'impossibile, ma quello che è sostenibile. Ecco, noi vorremmo continuare su questo binario. Ecco, tu Marco, prima hai citato fra le priorità quelle degli anellini. Al di là del fatto di come potrà essere una soluzione da trovare prima dell'avvio della stagione, Federcaccia anche quest'anno tutelerà i propri associati con le certificazioni di questi anellini? Noi abbiamo già fatto partire le certificazioni, sono sicuramente uno strumento importante per mettere il cacciatore nella tranquillità di poter utilizzare dei richiami certificati. Poi è evidente che anche qualsiasi agente di polizia può farti un'accusa che poi dopo è da dimostrare. Però noi siamo convinti che gli organi di vigilanza non siano sul territorio per penalizzare chi è in regola. Purtroppo ci sono tante persone che per svariati motivi non hanno magari tutti i richiami a posto e quindi sono quelle le persone che vengono perché io li ho visti verbali fatti a tanti cacciatori. Purtroppo c'è ancora tanti passi avanti da fare nella cultura della gestione del patrimonio dei richiami vivi. Cioè noi non possiamo pensare di non essere concentrati su quelli che sono gli indirizzi della normativa. Qui c'è una normativa che è stata fatta nel 2017 che oggi gli organi di vigilanza stanno applicando. Perché è tutto scritto quello che sta avvenendo. È stato scritto nel 2017, non è che se l'è sognato nessuno. Si tratta di adeguarsi. Però è evidente che chi poi si è adeguato deve poter andare a caccia tranquillamente senza rotture di scatole, senza aggressioni da parte di nessuno. Però io non ho visto questo tipo di aggressioni nei verbali che sono stati fatti. Ma i capannisti bresciani, oltre alla questione Nellini, bresciani ma anche bergamaschi, attendono adesso che il nuovo assessore tutta questa forte e massiccia presenza di cacciatori in regione, nel Consiglio, dia luogo alle deroghe, alla riapertura dei roccoli. Io lo vedo un po' improbabile perché se non ci sono riusciti fino adesso diventa un problema. Allora, io non so se fossero riaperti i roccoli, se fosse permesso al prelievo in deroga, se ci fosse una sanatoria sugli Nellini, sarei stupido a dire che non ne sono favorevole. Sarei ultra favorevole. Però la parola che io ho già usato tre o quattro volte in questa intervista, sostenibile, è quello che serve al mondo venatorio. Perché fare delle forzature, io ricordo la pispola e il frosone, le abbiamo pagate in modo veramente pesante queste aperture che ci sono state impassate. E chi lo nega è cieco, mente sapendo di mentire. Quindi noi dobbiamo avere delle aperture che siano sostenibili di fronte alle norme, di fronte ai TAR, di fronte a tutto. Se si trova il modo di aprire i roccoli che i TAR e la legislazione italiana ce lo permette, benvenga. Se ci può sistemare a questione Nellini, qualcuno ci dirà come vogliono farla. Perché più che dire dobbiamo sistemare questi Nellini, io non ho ancora capito qual è il modo. La soluzione. La soluzione. Parlano di una sanatoria. Io non so se la sanatoria verrà accettata dalle forze dell'ordine. Perché uno si deve comprare la Costituzione, vedere che c'è il potere politico, il potere legislativo e che devono bilanciarsi. Cioè, voglio dire, ci sono anche persone dall'altra parte che interpretano le norme. Ed è diritto di chiunque denunciare quello che ritiene illegittimo. Marco, un'ultima cosa. Allora, Brescia, ATC Unico, ha cambiato il presidente dopo le dimissioni di Alessandro Sala. È stato confermato Germano Pe, che è nominato dalla Col di Retti, che era già vicepresidente, e rimarrà in carica per un anno. Sì, rimane in carica fino a che l'anno prossimo, o primavera dell'anno prossimo, ci saranno le nuove elezioni per il nuovo comitato di gestione. Io credo che... Ti ha sorpreso la decisione di Sala di abbandonare? Sì, mi ha sorpreso e sinceramente mi ha anche lasciato molto perplessi le sue motivazioni. Però, voglio dire, sai, ognuno poi della sua vita, del suo impegno, del suo tempo, lo gestisce come meglio crede e quindi io rispetto la sua decisione. Però, mi ha sorpreso. Germano Pe è una persona che conosco a tanti anni, perché è un federcalciatore da sempre e lo conosco bene. Abbiamo deciso di appoggiarlo, perché comunque, ovviamente, anche lui ci ha dato la disponibilità di lavorare assieme. Però io credo che, ormai sia sotto gli occhi di tutti, ed evidente, che l'ATC Unico è un impegno gravoso e difficile da mantenere. Cioè, chiunque è andato a provare a gestire questo mostro di 180 mila ettari fa fatica, non riesce ad avere il collegamento con il territorio, non riesce a stabilire un dialogo più fluido con i cacciatori. Proprio per la sua complessità di distribuzione. Sono 132 comuni, cioè, voglio dire, ci sono ATC in altre province che hanno 19 comuni, il nostro ne ha 132. Se anche a Brescia ci fossero 4 ATC, sarebbero comunque 4 ATC da più di 30 comuni l'uno. Quindi già grandi, anche a livello di numero di associati, grandi dimensionalmente. Cioè, l'ATC Unico è, dal mio punto di vista, anche se in Federcaccia non tutti la pensano come me, è un obbrobrio. Allora, ringraziamo intanto Marco Bruni per la disponibilità. Torneremo a incontrarlo non appena ci sono altre novità da commentare. Per la voce delle associazioni è tutto.